Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. I protagonisti di Temptation Island continuano a tenere banco sui social. Alessia Pascarella, Lino Giuliano e Maika Randazzo, star dell'ultima edizione del popolare reality show, hanno recentemente risposto alle domande dei loro fan su Instagram, rivelando dettagli piccanti sulla loro situazione attuale. La coppia napoletana, formata da Alessia e Lino, è uscita separata dal programma, con Lino che ha iniziato una frequentazione con la tentatrice Maika. Nonostante inizialmente avessero dichiarato di essere solo amici, i due sono stati avvistati insieme in diverse storie Instagram e video su TikTok, confermando la loro relazione. Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, Alessia non ha risparmiato frecciatine verso Maika. Rispondendo a chi le chiedeva un'opinione sulla trentenne romana, Alessia ha detto, Lei ha fatto solamente la tentatrice. Totò? Mi piacciono insieme, li vedo molto simili. Io sono serena e voglio continuare a esserlo. Maika, da parte sua, ha parlato della sua relazione con Lino con toni positivi, ce la stiamo vivendo molto serenamente, ci troviamo bene insieme. Riguardo ad Alessia, Maika ha commentato, le frecciatine che continuo a lanciare? Non ci faccio troppo caso e non ci do peso. Capisco che vengono da una donna ferita, lei non mi è mai piaciuta e non lo nascondo. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.